Niente di nuovo sul fronte occidentale. Se dall'altra parte della terra il Giappone va verso un pesante allentamento monetario, la Banca Centrale Europea conferma invece le attese della maggioranza degli analisti. Il tasso di interesse di riferimento dell'Eurotower rimane fermo allo 0,75%. Basso sicuramente, ma non abbastanza per coloro che vedevano un ulteriore spazio di manovra da parte di Draghi e soci. Specialmente dopo gli ultimi dati economici che hanno registrato un calo di fiducia nel settore privato e una flessione delle pressioni inflazionistiche e nell'aria alleggia ancora il caso Cipro.